ciao video sui prodotti terminati di aprile e parto a farveli vedere ho finito questo litro di bagnoschiuma addolcente al latte di cocco della malizia questo qui non mi ha fatto impazzire allora è molto cremoso, fa una buonissima schiuma anche la profumazione non mi dispiace però a lungo andare si sente che è una profumazione molto chimica non sa proprio di qualcosa di... non lo so, sa proprio di cocco chimico e a lungo andare sinceramente mi aveva stufato la profumazione è un litro quindi ci ho messo veramente tanto per finirlo anche perché siamo in due ad utilizzarlo quindi ci vuole si lava bene, lasciava la pelle abbastanza morbida però niente di che un bagnoschiuma insomma poi ho finito queste salviettine della Kleenex queste qui io queste prendo solitamente quelle che trovo in offerta quindi semplici non mi si rovinavano si prendevano su... cioè nel senso non è che quando le andavo ad utilizzare mi si sfaldavano insomma queste le tengo in casa per soffiarmi il naso quindi niente di particolare semplici salviettine insomma poi ho finito una bustina di Pediluvio naturale al lume di rocca della Natura Amica questa ve ne ho già parlata tantissime volte è un profumo fantastico un odore balsamico lascia la pelle morbidissima proprio è una coccola farlo mettere i piedi a bagno dentro questo Pediluvio è veramente una coccola perché mentre si ammorbidisce proprio la pelle dei piedi vi sale questo odore balsamico meraviglioso faccio fatica a trovarlo ma quando lo trovo lo prendo sempre poi ho finito il bagnoschiuma della Sante al bio ginkgo e oliva questo qui che è uno dei pochi shampoo bio che nonno ha utilizzato da sola perché a mio marito non piace nemmeno uno degli shampoo bio tranne quello della Gently che utilizza costantemente in estate questo devo dire che è piaciuto anche a lui a me gli shampoo della Sante piacciono perché principalmente mi fanno durare più a lungo i capelli puliti questo mi è piaciuto perché comunque mi lavava molto bene la cute senza comunque farmi uscire forfora, cose varie non mi seccava le lunghezze e come per gli altri comunque i capelli mi restavano puliti più a lungo rispetto ad altri shampoo bio questo non mi è dispiaciuto ora ne ho un altro da utilizzare della Sante però tra queste, quella al cocco e arancia che ho provato sicuramente riacquisterei questo qui poi ho finito la crema corpo al karité di equilibra questa era una confezione da 200 ml ha un profumo fantastico questa crema adesso per il periodo estivo non la riacquisterò perché probabilmente è troppo per la mia pelle però in inverno è stata perfetta perché a parte la profumazione che mi piace un sacco fa una leggerissima scia bianca devo massaggiare un pochino di più però mi lascia la pelle delle gambe veramente morbida per tutta la giornata non sento la pelle tirare durante il giorno quindi la trovo ottima io l'avevo presa in offerta sui 3,90 euro se non erro però mi sembra che queste creme non vengano più di 5 euro ci sono altre due profumazioni se non erro questa era per pelli secche questa è quella idratante protettiva eccola mi ci sono trovata veramente molto molto bene sicuramente per il prossimo inverno è uno dei prodotti che potrei riacquistare poi ho terminato l'ennesimo baby detergente gel delicato per pelli sensibili e delicate questo è della Ecos questo lo utilizzo sia per mani che per viso la mattina per il viso la mattina e devo dire che questo mese l'ho utilizzato anche come detergente intimo alcune volte e non mi è dispiaciuto nemmeno in quel caso è un buon detergente è molto delicato lava bene mi piace ecco mi piace molto l'ho già ricomprato questa credo sia la seconda o la terza confezione che finisco quindi mi piace poi ho finito il gel detergente purificante questo qui della L'Ovea questo non l'ho finito tutto io ma quando ci siamo viste il Cosmoprof me l'ha portato Francesca Sissi & French che più o meno è arrivato qui mi ha detto se lo vuoi finire te lo lascio mi ci sono trovata veramente molto molto bene questo è la terza mini taglia che provo di questo detergente non lo posso utilizzare costantemente mattina e sera utilizzato però una volta al giorno va benissimo perché mi lascia comunque la pelle molto morbida la pulisce a fondo e non è esageratamente aggressivo sulla mia pelle se utilizzato una volta al giorno da me la L'Ovea non si trova però so che viene rivenduta in alcune OVS e non ha un prezzo nemmeno eccessivo questo prodotto io devo dire che con tutte e tre le mini taglie mi ci sono trovata veramente molto bene poi ho finito il sapone mani e viso alla mandorla dolce della Biolis Nature questo qui questo l'ho utilizzato semplicemente per le mani perché ho provato alcune volte sul viso ma era leggermente troppo aggressivo per la mia pelle sembrava quasi che me la sentivo tirare comunque invece per le mani non è niente male ha una buona azione anche antiodore perché l'ho tenuto anche qui in cucina e aveva anche una buona azione antiodore insomma sulle mani niente male è un sapone per lavare le mani costa poco perché costa sui 2 euro e potrei anche riprenderlo finalmente ho finito il balsamo protettivo capelli in arilitio sfibrati con olio di semi di lino dell'Umbria Altea Bio della Giardino Cosmetico questo purtroppo a me non è piaciuto per niente ce l'ho dalla scorsa estate sono riuscita a terminarlo solo adesso perché mi metteva sempre pensiero utilizzarlo sui miei capelli non districa non li ammorbidisce non fa assolutamente niente sul mio tipo di capello quindi a me non è piaciuto costa poco ma per i miei gusti non è un buon prodotto poi ho finito lo scrub corpo al caffè questo qui di Natura Equa questo qui al caffè che ha ancora questo odore fantastico di caffè allora mi è piaciuto questo mi è piaciuto molto principalmente per l'odore perché se vi piace il caffè questo ha un odore fantastico ma veramente fantastico di caffè scrubba molto bene l'unica cosa l'unica pecca che ho trovato è che l'ultima parte proprio quando era arrivato più o meno qui era come se si fosse separata la parte diciamo i granellini dalla parte cremosa quindi diciamo che l'ultima parte non ha scrabbato niente perché era proprio separata però sicuramente è un buon prodotto non costa poco questo adesso ne ho prese un altro di Equilibra che non mi sta dispiacendo nemmeno quello però questo sicuramente è un buon prodotto e poi questo quando lo utilizzavo la mattina quando mi facevo la doccia cioè il bagno si riempiva di questo odore di caffè meraviglioso proprio poi ho finito finalmente lo shampoo questo qui antiforfora della Neo Bio l'ho finito per lavare i pennelli utilizzato per quello ce n'è rimasto veramente un goccino ma non riesco proprio più a sopportarlo questo mi ha causato un sacco di problemi alla cute veramente me l'ha fatta praticamente squamare l'ho utilizzato semplicemente tre volte sui capelli e mi si era infuocata proprio la cute mi si erano create proprio delle crosticine che mi si perde cioè mi si squamava proprio la cute e assolutamente dopo il terzo utilizzo non l'ho mai più utilizzata sui capelli mai l'ho utilizzata per i pennelli l'ho utilizzato però nemmeno lì trovo che sia stato ottimo perché i pennelli quelli più magari economici che valgono meno lasciava anche su quelli comunque le setole abbastanza secche assolutamente non lo riprenderei mai più proprio mai poi ho finito un altro shampoo alla salvia e limone shampoo naturale semi di lino bio salvia e limone questo della saponaria vabbè questo già me ne ho parlato tantissime volte è tra gli shampoo bio uno dei miei preferiti perché lo posso utilizzare costantemente per tutti i lavaggi non mi da problemi assolutamente aiuta a sgrassare bene la mia cute senza però andare a irritarla senza sgrassarla troppo ecco non mi lascia le lunghezze paia assolutamente l'ho utilizzato in estate quando andavo anche magari di corsa perché mi svegliavo più tardi anche senza balsamo e poi non avevo problemi assolutamente a districare i capelli adesso ho altri shampoo ma questo lo riprendo sicuramente perché è uno di quelli che comunque io riacquisto sempre perché so che se mi trovo male con altri prodotti questo è diciamo tra virgolette sempre di cose futili parliamo un ancora di salvezza perché so che con questo io mi trovo bene quindi se ho qualche cosa che non mi piace poi torno comunque a lui poi sempre in tema capelli ho finito il trattamento di bellezza per tutti i tipi di capello instant hydrating styling mask questa qui nella nashi questa vabbè già l'ho ricomprata al Cosmoprof a me piace tantissimo prima cosa l'odore che è un odore fantastico ma veramente fantastico io la utilizzo sia a capelli asciutti che a capelli bagnati non mi dà nessun tipo di problemi non mi appesantesce i capelli ma anzi me li lascia veramente morbidi e poi si sente questo odore che è meraviglioso non so quanto viene in negozio io acquistandolo al Cosmoprof l'ho pagata sui 14,50 però anche se venisse qualche cosa in più questi sono 150 ml io ne ho mandate diversi pottini da provare alle amiche e nonostante questo mi è durata un anno quindi è una spesa che comunque si ammortizza nel tempo poi ho finito la crema mani menta e limone questa qui della saponaria che questa me l'aveva regalata Cristina Bio Bellezza che ancora ringrazio è una crema fantastica l'odore mi piace tantissimo e è un'ottima crema per chi come me ha le mani realmente secche principalmente in inverno ne ho un'altra confezione perché quando poi ho iniziato a provarla e mi è piaciuta insomma ne ho ripresa un'altra confezione ma per adesso non la apro la riaprirò questo inverno perché secondo me per l'inverno questa è perfetta io la mettevo la sera prima di andare a dormire mi lasciava comunque le mani molto molto morbide non è una crema che utilizzavo di giorno perché ci vuole un po' di più per farla assorbire anche una volta massaggiata le mani comunque me le lasciava un pochino umide ci voleva diciamo un minuto in più per farla assorbire ma utilizzata di sera era perfetta io mi svegliavo con le mani praticamente morbidissime veramente fantastica questa crema poi ho finito lo struccante bifasico questo qui di Avenida anche questo mi è piaciuto molto poi sono tornata al Penny Market e non l'ho ritrovato sinceramente dovrò ripassare tanto il Penny Market è praticamente a 50 metri da dove lavoro costa poco è efficace l'unica pecca è che qui c'è scritto con estratto di arancia dolce arancia amara e olio di gotone ma non sa di arancia io l'odore di arancia non lo sento però strucca bene non mi brucia gli occhi magari vi lascio nelle schede se mi ricordo e è il video dove l'ho provato per la prima volta poi ho finito sempre di Avenida anche il detergente viso con acqua micellare con estratto di fior d'aliso biologico all'antoine acido ialuronico questo qui e anche questo mi è piaciuto molto allora questo viene sui 2,90€ questo viene meno di 2€ se non erro questi sono 200ml questi 150€ a me è piaciuto è piaciuta molto anche questa perché comunque struccava molto bene io poi la ripassavo anche sugli occhi per togliere magari i residui di questo qui perché essendo bifasico è leggermente oleoso non è untissimo però è leggermente oleoso non mi bruciava gli occhi mi struccava tutto la profumazione non sa praticamente di niente però per 2€ secondo me è un ottimo prodotto entrambi sono certificati CEA quindi va più che bene secondo me poi ho finito questo profumo di Umica questo era il 50ml era Chanel Chance o Tundra dovrebbe essere se non erro e mi è piaciuto molto il 50ml dovrebbe costare sui 20€ Cristel correggimi se sbaglio praticamente sarebbe il profumo identico a Chanel Chance o Tundra il profumo è buonissimo mi dura tranquillamente tutto il giorno ne bastano veramente due spruzzate e si sente un ottimo acquisto è stato ora ne ho un altro in mente che voglio acquistare ma lo comprerò diciamo più avanti adesso sto utilizzando il papavero suave di Erbolario che mi piace tantissimo poi le ultime due cose una è questa maschera occhi belli mascherina riposante rilassanti per occhi questa qui mi fa ridere il nome occhi belli va bene questa io l'ho acquistata in erboristeria e vedo che è prodotta da Vailant è una ditta italiana perché viene in Milano e qui dice mascherina riposante e rinfrescante per gli occhi dopo una giornata faticosa le palpebre si gonfiano e gli occhi bruciano occhi belli grazie alle proprietà dell'acqua distillata di camomilla fiordaliso mammelli settio apporta un beneficio incomparabile agli occhi ridonando freschezza e vitalità con un piacevole profumo di rosa allora io il profumo di rosa sono sincera non l'ho sentito questa era una maschera che mettevate proprio maschera così ecco andava a coprire anche le palpebre e ne sono andata ad acquistare altre due in erboristeria perché in questo periodo ho la sera gli occhi particolarmente pesanti e questa è veramente relax assoluto perché voi la dovete mettere a occhi chiusi dopo naturalmente averli struccati qui dice applicare la maschera sulle palpebre chiuse farla aderire al contorno occhi e lasciarla agire 8-10 minuti per una migliore efficacia si consiglia prima dell'uso di mettere la busta in frigo per qualche minuto veramente io sono stata l'ho tenuta anche più perché sono stata un quarto d'ora stesa sul divano con questa maschera sugli occhi a occhi chiusi ed è veramente rilassante e gli occhi li sentivo cioè sentivo proprio la zona più morbida più distesa ed è stata veramente una coccola anche per gli occhi perché la sensazione di pesantezza sembrava quasi svanita costa mi sembra sui 3 o 4 euro però ne sono andata già a riacquistare altre due perché mi è piaciuta veramente tanto poi ho finito l'ultima cosa questo campioncino di sotto la doccia della neve ha questo qui allora prima cosa io non capisco il senso del perché uno si debba struccare sotto la doccia perché se tanto mi devo struccare sotto la doccia mi strucco prima di entrare però vabbè ognuno poi fa quello che vuole ma quindi c'entra in doccia applicalo con massaggi circolari su pelle asciutta fino al dissolversi di make up e mascara ed è per questo che non capisco perché se tanto lo devo applicare sulla pelle asciutta ma non conviene che mi strucco prima però risciacquo a fondo sotto la doccia make up svanito sì e no nel senso che il trucco occhi si era svanito il mascara no cioè io ho fatto movimenti circolari tutto quello che c'era scritto tant'è che tutto questo campioncino la 2ml tutta l'ho utilizzata solo una volta però quando sono uscita comunque i famosissimi occhi a panda io ce li avevo lo stesso perché il mascara sotto l'acqua comunque continua cioè me lo sono ritrovato tutto qui boh non è un prodotto che acquisterei ho trovato questo campioncino sul giornale ero curiosa perché ci stanno facendo una pubblicità assurda e l'ho provato però boh non cioè per come sono abituata io a struccarmi non è un prodotto che trovo utile quindi non lo acquisterei questo era tutto e ci vediamo al prossimo video ciao